Grazie Presidente, credo che la discussione che iniziamo quest'oggi e l'avvio dell'esame di questa proposta di legge all'iniziativa popolare ci riporti a temi che sono veramente importanti in questo momento e lo fa soprattutto quando le nostre cronache sono ancora oggi piene di una serie di problematiche istituzionali serie che minano non soltanto la credibilità della giustizia ma che minano la credibilità di un Paese perché è proprio attraverso la giustizia, lo dicono i dati, una delle prime percezioni che hanno i cittadini anche coloro i quali vivono al di fuori dei confini italiani è proprio la giustizia come viene gestita la giustizia nel nostro Paese, i tempi, la validità e le procedure che vengono seguite e questo ha a che fare non soltanto con un tema sociale, ha a che fare anche con un tema economico perché quando gli investitori decidono di venire in Italia lo fanno anche guardando a quello che succede alla giustizia e allora credo che portare in aula finalmente la discussione, il dibattito di un provvedimento come questo sia davvero fondamentale, fondamentale per ribadire un concetto che è già sancito all'interno della nostra Costituzione all'articolo 111 ma che evidentemente non ha ritrovato poi un'applicazione concreta nella nostra legislazione e quindi poi nelle procedure che vengono attivate è davvero importante che il percorso iniziato proprio attraverso l'articolo 111 della Costituzione trovi finalmente una evoluzione dello Stato di diritto che in Italia invece pare essersi bloccato il fatto che magistratura giudicante e inquirente infatti appartengano ad un unico percorso di carriera rappresenta un punto residuo anche se come Fratelli d'Italia dice dall'inizio di questa legislatura il tema della giustizia purtroppo non può essere affrontato a spezzoni non può essere affrontato un problema alla volta ma avremo la necessità di avere una riforma strutturale completa che si occupi di tutti i problemi della giustizia e allora se vogliamo davvero riportare un po' il dibattito su quelli che sono i criteri delle democrazie liberali e se vogliamo riportare un po' il dibattito su quello che realmente accade all'interno dei nostri tribunali non possiamo non evidenziare come la commissione di carriere fra la magistratura inquirente e quella giudicante toglie una garanzia fondamentale che è quella della terzietà del giudice terzietà del giudice non vuol dire essere assolutamente sordo alle richieste delle parti vuol dire avere la possibilità per tutti i cittadini di affidare la propria sorte giudiziaria a un magistrato che in maniera assolutamente imparziale sia capace di ascoltare accusa e difesa senza il pregiudizio che invece oggi purtroppo pervade i nostri tribunali qualche anno fa fu scritto un libro da un collega questo libro si chiama I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia ed è un volume che riporta una serie di dati che sono veramente interessanti perché ci fanno capire qual è la percezione di chi opera all'interno dei tribunali di questa mancata divisione delle carriere a parlare sono avvocati penalisti e secondo il 72,9% degli intervistati in tribunale il giudice accoglie le richieste dei PM con una frequenza compresa tra il sempre e il quasi sempre e secondo il 58% degli intervistati il giudice è più sensibile alle sollecitazioni del PM rispetto a quelle del difensore nei processi ordinari percentuali che sale al 71% nei processi rilevanti e allora se vogliamo calare nel concreto questa percezione del processo questa prassi che c'è all'interno del processo penale capiamo quanto tutto questo abbia delle conseguenze importantissime sulla missione delle prove dei testimoni sull'ascolto dei testimoni ma soprattutto sulla terzietà del magistrato che deve oggi necessariamente approcciarsi a tutte le prove dibattimentali con uno spirito sereno ma soprattutto distaccato fra quelle che sono parti processuali che devono essere poste sullo stesso piano nessuno può prevalere sull'altro e lo vediamo, lo vediamo, l'abbiamo visto dalla cronaca di questi giorni abbiamo letto dal caso Palamara quanto oggi ci sia una interrelazione tra l'altro così tanto forte fra magistratura e politica quanto sia divenuto oggi un unicum per cui anche in magistratura l'assegnazione dei ruoli di procuratore della Repubblica o la dislogazione nelle piante organiche dei ministeri dipenda da una visione unitaria che di fatto unisce la magistratura inquirente e la magistratura giudicante e questo non dà la sensazione di democrazia reale non dà la sensazione di democrazia concreta la mancata separazione delle carriere si avviluppa attorno a tutto questo sistema e ci pone degli interrogativi che non possiamo non considerare circa il rischio che l'esercizio o il non esercizio dell'azione penale possa rispondere a dinamiche che sono del tutto estranee rispetto alla mera applicazione del diritto e vedete quando ascoltiamo quando leggiamo così come abbiamo fatto in questi mesi una questione magistratura e capendo assolutamente che le persone sono persone che le categorie non sono fatte di persone tutte assolutamente identiche e però ci ritroviamo di fronte ad un tema sostanziale e abbiamo la necessità oggi più che mai che ci sia la riappropriazione del ruolo legislativo per chi ha questo ruolo e ovviamente che ci sia una distinzione di poteri sempre più definita e all'interno di questa definizione rientra nella logica complessiva ovviamente anche quella della separazione delle carriere perché dobbiamo assolutamente evitare che ci siano delle nuove distorsioni questa è un'urgenza non è soltanto un tema che oggi affrontiamo è un'emergenza di questa nazione è un'emergenza sentita tra gli italiani e il fatto che oggi quello che esaminiamo è un progetto di legge, di iniziativa popolare ci deve indurre proprio a raccogliere il testimone in una richiesta e tradurla in norma dello Stato e sono i cittadini italiani che ci chiedono questa riforma e quindi evidentemente diventa un tema fondamentale nel rapporto fra giustizia percepita e giustizia applicata negli altri paesi dove il PM è un funzionario del governo Francia, Spagna, Belgio e esiste un giudice istruttore indipendente che garantisce l'autonomia delle indagini ecco in questi stati, mi viene in mente anche la Gran Bretagna o gli Stati Uniti dove l'investigazione penale è affidata alla polizia viene in mente ovviamente la figura del pubblico ministero che noi abbiamo in Italia ma il modo di operare delle procure distrettuali nel resto di Europa e anche fuori dall'Europa è un metodo completamente diverso da quello che invece viene ancora utilizzato in Italia noi siamo di fatto l'anomalia l'anomalia in un sistema in cui si è già capito che i due ruoli devono essere separati devono rimanere separati e devono essere assolutamente indipendenti l'uno dall'altro perché è l'unico modo per garantire la giustizia e garantire l'esercizio dell'azione penale così come il raggiungimento di una sentenza definitiva che sia ovviamente imparziale rispetto agli atti che vengono presentati da 28 anni a questa parte c'è un nodo irrisolto che è quello, come dicevo, dell'equilibrio dei poteri che rende il nostro Paese una stortura nella tutela delle garanzie e delle libertà individuali e allora dobbiamo proprio ripartire dal pieno compimento dell'articolo 111 della Costituzione perché questo è il primo passo da effettuare per avviare un percorso che sia volto a porre rimedio a queste storture siamo nel 2020 e non possiamo più permetterci di avere una giustizia malata non possiamo più permetterci di avere una giustizia che non funziona non possiamo più permetterci di entrare nei nostri tribunali lo dico prima ancora che da parlamentare da avvocato penalista che frequenta le aule quotidianamente noi non possiamo più permetterci di entrare in quei tribunali di cercare il colloquio con i pubblici ministeri sentendoci sempre una di minuzio noi abbiamo la necessità che venga garantita la difesa e la garanzia della difesa di ogni cittadino che non è colpevole fino a prova contraria passa anche attraverso la separazione delle carriere perché troppo spesso vediamo anche magistrati che dall'una funzione passano all'altra e questo è un altro tema che andrebbe affrontato così come la sostanziale impossibilità questa è un'altra proposta di Fratelli d'Italia per i magistrati che abbiano intrapreso ad esempio una carriera politica di ritornarci ecco questi sono tutti i temi che oggi nel 2020 devono necessariamente rientrare nel nostro dibattito perché se non siamo in grado di garantire una giustizia giusta noi diamo il destro ai cittadini italiani e ovviamente a tutti coloro i quali vengono anche da fuori dei nostri confini di perdere la convinzione che siamo un paese democratico e che siamo in grado di applicare i principi della democrazia nel nostro vivere quotidiano la giustizia entra nelle nostre vite più di quanto possiamo immaginare e lo sanno tutti coloro i quali un processo l'hanno subito lo sanno tutti coloro i quali vivono come faccio io come fanno tutti i colleghi avvocati quotidianamente vivono le tragedie di famiglie che magari per anni soltanto per un pregiudizio sono sottoposti ad un processo che poi magari finisce in assoluzione ecco noi non possiamo più permettercelo siamo la nuova classe dirigente così ci chiamano e dobbiamo preoccuparci di formare ancora le classi dirigenti che verranno dobbiamo dare al paese, ai cittadini, ai nostri giovani la speranza che ci sia ancora la capacità di attuare i principi di diritto e di democrazia nel nostro Stato ed è per questo ovviamente che parteciperemo come Fratelli d'Italia a questo dibattito con passione ma soprattutto con l'assoluta convinzione che la giustizia debba essere giusta grazie